Quest'anno ricorrerò in un anniversario importante per Oneta, si parla di mille anni di storia della parrocchia. Sì, mille anni, non sono uno scherzo, mille anni, però se lo confrontiamo con il percorso della storia dell'uomo, ben poca cosa, se pensiamo che ogni secolo ci sono tre generazioni, mille anni sono trenta persone, dico bene, quindi trenta persone qui in chiesa ci stanno nei primi sei banchi, più o meno. Quindi diciamo che è di per sé anche un periodo breve. Certo per la comunità di Oneta è un periodo lunghissimo, un periodo della nostra storia, è un periodo estremamente importante perché la fondazione della chiesa per mille anni si consolida praticamente tutta la nostra comunità e si realizzano quelle condizioni fondamentali sociali, economiche e politiche per cui che permarranno fino al 1880 quando arriverà poi la nuova economia, quella mineraria e questo sarà un elemento di frattura con il passato e ovviamente ci sarà anche un'evoluzione economica della nostra comunità, chiaramente, ma in modo particolare demografica perché è un paese da 530 abitanti, di grosso modo, passiamo nel 1951 al 1127. Oggi stiamo ritornando a quei livelli, siamo all'incirca 630 persone, per cui vede che l'economia ha una funzione fondamentale sulla demografia dei luoghi. Il paese di per sé ha una, diciamo è piccolo, porta in sé una grande storia, che è qui da vedere, quindi invitiamo la gente a visitare la chiesa e anche il paese di Oneta che è considerato un paese carino, interessante. Ecco, in chiesa ci sono tante opere d'arte, le principali sono dedicate all'Assunta, la parrocchia è dedicata all'Assunta? Sicuramente la parrocchia è dedicata all'Assunta, tant'è che poi la parrocchia è dedicata all'Assunta, tant'è che poi la parrocchia è dedicata all'Assunta, tant'è che poi la parrocchia è dedicata all'Assunta, del Giovan Battista Moroni, un'opera di altissimo valore artistico, è una delle prime opere del grande pittore ed è considerata praticamente la prima tappa del percorso di conoscenza di questo grande pittore. Quindi la parrocchia è significativa e rappresentativa e sono pochi paesi in Bergamasca che possono godere di questo valore artistico. Oltre a questo si aggiungono le opere del Fantoni, 1709, abbiamo l'altare maggiore, quindi le due statue del Moroni e anche di San Gerolamo sono sempre dello stesso periodo e sono di altissimo pregio. Della statua del Borromeo ne abbiamo fatto un calco e l'abbiamo riportata alla Scullera, nella fontana dedicata appunto al Borromeo. Quindi oltre a questo appunto si aggiungono i valori, diciamo, artistici di grandi opere come quello appunto delle scuole fantoniane. Comunque questa è una delle parrocchie più antiche della Diocese. Senza ombra di dubbio, non conosciamo, ce ne sono altre sì, però di questa antichità ben sono ben poche. Il 1015 è un anno fatidico, un anno che comunque rappresenta in ogni caso, sicuramente è l'elemento significativo di una comunità che è già ben consolidata e che trova attraverso la Chiesa un momento di aggregazione, di comunità.